. Grande fratello VIP, Jeremias Rodriguez piange per la sorella Belen, l'ho lasciata da sola e non ho fatto niente. . Jeremias Rodriguez è il fratello di Belen Rodriguez che sta partecipando alla seconda edizione del Grande fratello VIP, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez. . Il 28enne argentino, fino ad ora, si è reso protagonista di episodi poco piacevoli, in primis, le minacce rivolte a Daniele Bossari a cui, successivamente, ha chiesto scusa, ma si è anche dimostrato un ragazzo dalla forte emotività, nella casa, ha già pianto più di una volta. . . Dopo aver ascoltato Aida Jespica parlare della morte di suo padre e dell'abbandono da parte della madre, Jeremias Rodriguez ha iniziato a pensare all'arrivo della sorella Belen in Italia e delle difficoltà che ha vissuto durante gli anni della sua gavetta. . 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